Un concorso d'eleganza a Villa d'Este straordinario quest'anno, a partire dal motto, il giro del mondo in 80 giorni, Jules Verne, era un viaggio straordinario, pensato da uno scrittore che guardava sempre avanti e che ha scritto molti romanzi immaginando il futuro. Questo è un po' l'idea e il concetto anche del concorso d'eleganza a Villa d'Este che da sempre porta il meglio dell'heritage automobilistico e da alcuni anni anche motociclistico, ma dall'anno scorso e da quest'anno ancora di più si proietta anche nel futuro. Infatti la grande novità di quest'anno è che oltre al concorso d'eleganza di auto storiche e di moto storiche avremo anche un concorso sui prototipi e sulle concept car e sui prototipi e le concept bike, quindi automobili e motociclette del futuro. È bello coniugare la storia e il futuro, così come abbiamo iniziato a dire in maniera forte iniziando le celebrazioni del gruppo BMW l'anno scorso, The Next 100 Years. La storia serve per guardare cosa si è fatto nel passato ma soprattutto per proiettarsi nel futuro. Ci saranno 51 veicoli da 16 paesi che rappresentano 30 marchi diversi. 51 veicoli saranno valutati dalla giuria in presenza dei proprietari. La domenica tutte le vetture e tutte le motociclette saranno presentate al pubblico e il pubblico potrà scegliere la macchina più bella e la moto più bella. Aspetteremo circa 7000-8000 visitatori. La sera della domenica si svolgerà il finale del concorso, saranno presentati gli otto vincitori delle varie categorie, quindi gli otto best in class e sarà proclamato poi il vincitore complessivo del concorso con il titolo Best of Show.